Scusi, una domanda? Certo, mi dica. Mi sa dire dove abita Mustafa? E' un marocchino che abita in questo palazzo qua. Mi dispiace ma non conosco questa persona. Ciao, Tlai, Tlai. Ti dico se si fai una marcia di un'altra parte del palazzo, Tlai. Ciao Valeria, come stai? Come sta Mamadone, tu ragazzo? Quando ti porta in Senegal con lui, in Africa? Eh, trattalo bene, eh? Trattalo bene, Tlai. Ma Tlai, Tlai, scrivi il pacchetto di mezzo, scrivi, Tlai, Tlai. Tlai, Tlai, Sousa. Tlai, 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 Sama. Salam alaykom. Ära, come stai? è stato tutto questo e poi sono è quello che ti ha lavorato è stato è stato a questo dove bra 3 15 Ho un'escino una coppia fuori lui lo è stato giovane aveva abuso ed ho presa un ragazzo una codicizia cosa vorrei vedere le miei 귀ari per la maniera 7 una oddica una caccia una caccia la troppo alla fine mi ha fatto al gioco e non lo so non lo so la città e non ora cosa vi faccio io ho capito che a me ma mia cosa ti faccio adesso non so il suo non ho capito non ho capito io ho capito se non ho capito se ne ho capito Grazie a tutti.